Si tratta di un concerto che noi chiamiamo Schubertiade e che raggruppa due dei più bei quintetti scritti da Schubert la trota per Pianoforte d'Archi e il famosissimo quintetto operapostuma per Archi che è forse una delle cose più belle che siano mai state scritte. Oltre a regalare, insomma, oltre a omaggiare di denaro in questo caso, in questo caso ci si parla proprio di un omaggio culturale. Sì, io ho avuto il privilegio di poter offrire questo concerto a Teleton, ne sono veramente contento e invito tutti a condividere questo piacere importante di sentire questa musica così bella. Oltretutto gli artisti sono di altissimo livello e sarà una serata molto interessante. Venite, vi aspettiamo.